Doveva essere una serena passeggiata in calesse e invece si è trasformata in un incubo. È successo ieri a Caltanissetta in Contrada Furiana, vicino il borgo di Prestianni. Sul calesse trainato dal cavallo erano in cinque persone, un uomo alla guida del mezzo, tre donne, una di 60 anni, l'altra di 55 e l'ultima di 65 anni ed un bambino di 5 anni. Poi l'improvviso ribaltamento del calesse per motivi ancora sconosciuti. Sono stati direttamente ai feriti, a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze e l'elisoccorso, poco dopo anche i vigili del fuoco del comando provinciale Nisseno e la polizia di Stato. I feriti hanno riportato tutti contusioni e traumi. La più grave delle tre donne è quella di 60 anni che a causa della frattura esposta rischia l'amputazione del piede. In buono stato di salute, con qualche ferita lieve invece il bambino che è stato prontamente visitato da un pediatra.